Ciao, il mio nome è Luca, da Mr. Gadget. Questo è uno spazio in cui, devo dire, ripeto, per la terza volta una recensione di un prodotto. Poi vi spiego perché. Intanto vi dico che oggi proviamo Oppo Find X. Se vogliamo chiamarlo in modalità un po' più nostrana, Oppo Find X. Terza volta che io rifaccio questa recensione, perché l'ho girato una volta, l'ho provato ancora un po', ho rifatto la recensione, poi l'ho provata ancora un po' e sono arrivato a quella che è probabilmente la versione finale. Le altre due le ho buttate via. Tenete conto che sono diversi giorni che lo sto provando. Prima di cominciare voglio ricordarvi che MrGadget.net è tutto nuovo, il sito internet completamente rinnovato, perfetto per la navigazione anche da mobile, molto più veloce e reattivo. Vi consiglio di fare un salto su MrGadget per dare un occhio e vorrei soprattutto il vostro parere anche sulla nuova grafica del mio blog. Oppo Find X. Questo è un prodotto in cui bisogna subito mettere in chiaro quanto conti per voi la bellezza di un prodotto. Se siete sensibili alla bellezza, questo è un prodotto straordinario. Se siete solo alla ricerca di scheda tecnica, di foto perfette al subpixel, allora questo non è il telefono per voi. Ma andiamo per gravi. Il telefono lo tolgo, lo guardiamo dopo. Dentro la confezione, una cosa secondo me fondamentale, perché questo è un telefono bellissimo ma anche estremamente delicato. E quindi ecco la cover che è stata inserita. Tra l'altro è particolare perché sembra gomma silicone, in realtà è rigida, dà una notevole protezione al telefono. E poi sotto, insomma qui si pecca un po' perché auricolari che sono praticamente identici a quelli di Apple. E poi il caricabatterie con il VOOC Charging. Allora, guardiamo da vicino il nuovo Oppo Find X. Ve lo faccio vedere in questa versione in cui ho installato il Pixel Launcher che conserva il cassetto delle applicazioni e vi permette di fare le cose che abitualmente fate con un launcher. Perché? Adesso vi faccio vedere anche il perché. Perché se utilizzate in realtà il launcher predefinito, che adesso andiamo a vedere immediatamente, questo è il launcher di sistema che mette tutte le applicazioni in un unico livello ma non vi dà ad esempio l'opzione di governare queste applicazioni in ordine alfabetico. Vedete, non c'è un cassettino o una zona applicazioni. Potete semplicemente in questo modo scegliere che tipo di effetti avere per le transizioni oppure scegliere di inserire i widget. Quando volete spostare un'applicazione da una parte all'altra, vedete, appaiono queste miniature che sono sotto il display che vi aiutano invece a capire quanti schermate avete e come gestirle. Però direi che una delle cose che mi piacciono veramente poco di questo telefono è proprio il suo launcher. Ma ci torniamo dopo. Adesso vediamo un attimo invece la parte di stile, di dettaglio. Questo è un display AMOLED, è un display AMOLED con una diagonale da 6,42 pollici. È un display AMOLED che quando il sensore della fotocamera è chiuso ha addirittura il 93,8% di rapporto tra superficie totale e display. Quando fate questa cosa e quindi appare la fotocamera, la superficie diventa dell'87%. Questo è un display con una definizione 1080x2340, una ratio di 19,5 noni come proporzione e una superficie davvero importante perché siamo addirittura oltre i 101 cm2, quindi siamo veramente davanti a qualcosa di notevole. Gorilla Glass 5 per la protezione e ci sono 401 pixel per pollici. Se io giro il telefono noterete come non ci sia assolutamente nulla sulla parte posteriore e qui arriviamo al fatto che non esista il sensore delle impronte digitali. La sfida di utilizzare lo sblocco con il viso che vi mostro immediatamente, allora vedete quando io sblocco, quando alzo il telefono, vedete in questo punto lui ha riconosciuto il mio viso, ve lo rimostro un'altra volta, sollevo, lui apre il pop-up, ve lo faccio vedere meglio anche in questa posizione, apre il pop-up della fotocamera, mi riconosce e il pop-up si richiude. Funziona al buio, senza problemi, purtroppo con la barba a volte dà un po' di difficoltà. Il fatto che manchi il sensore delle impronte digitali vi porta inevitabilmente a dover digitare il codice che non sempre è la cosa più comoda e più immediata da fare. Però insomma ci torniamo poi, intanto abbiamo detto 6,42 pollici, AMOLED, sulla parte posteriore non c'è assolutamente niente, un lato pulitissimo con il solo pulsante di accensione, altro lato è estremamente pulito anche lui con i due pulsanti per il controllo del volume, il volume rocker, curiosità, il cassetto della sim è messo qui nella parte inferiore del telefono dove c'è anche l'attacco USB Type-C, curiosamente tra l'altro è un USB 2.0 e poi abbiamo visto la parte altoparlante e microfono. La parte superiore che invece è attiva in questo modo ha una fotocamera frontale, poi ci torniamo, e una doppia, si è richiuso adesso perché ho toccato un'altra icona, e poi vedete una doppia fotocamera posteriore, anche questo torniamo sulla fotocamera successivamente per vederne i dettagli. Ecco, esteticamente io trovo che questo telefono sia di una bellezza al limite dell'imbarazzante, cosa ne pensate? Allora, bello, bellissimo, ma quanto costa? 999 euro, che è un prezzo importante, dentro c'è tanta tecnologia rilevante, c'è un processore Snapdragon 845, devo dire che ci sono tagli di memoria, intanto andiamo a vedere un po' anche come è fatto il menu, tagli di memoria da 128, da 256 giga, ci sono 8 giga di RAM all'interno, c'è una GPU Adreno 630, quindi insomma c'è una dotazione veramente importante. Allora, vediamo un po' come è fatto il software, abbiamo detto dunque launcher su un solo livello, non mi piace, poi abbiamo quick toggles, questi gestiti bene con una grafica carina che richiama un po' il mondo di Oppo, in cui il verde è sempre tema di Oppo, non Oppo, un rifuso. Vediamo, allora la prima cosa che potete fare è gestire la barra di stato con le notifiche, allora un elemento, avete sentito, avete letto probabilmente che questo telefono ha le notifiche che non funzionano, per qualche misteriosa ragione sono disattivate per default, probabilmente un piccolo glitch del software, è fastidioso ma si risolve in due secondi, quindi non lo vedrei tra le cose drammatiche. Potete scegliere sulla barra di stato che cosa volete vedere, la percentuale della batteria, ad esempio, che potrebbe essere una cosa importante. Il display, potete scegliere il calore, la tonalità del vostro schermo e poi ecco l'effetto della luce panoramica sul display. Questo è un effetto molto carino, quando arrivano telefonate o quando avete notifiche sul vostro display ci sono degli effetti colorati con dei gradienti sul bordo che sono secondo me bellissimi esteticamente, gli stessi che vedete tra l'altro nel momento in cui il telefono è in carica. Potete poi insomma gestire la visualizzazione delle app a schermo intero, la parte con la proiezione notturna, però insomma tutto sommato situazioni abbastanza semplici. Qui potete scegliere il layout della schermata ma solo per il numero di applicazioni che compaiono sullo schermo e poi c'è la scelta del tema o degli sfondi che avete a disposizione per il telefono. Essendo uno schermo AMOLED potete sbizzarrirvi con gli sfondi più belli e possibili in circolazione. C'è da sottolineare una cosa, non ci sono le gestures ancora nella versione europea, c'è una questione legata ai diritti, alle properties, insomma copyright, quindi le gestures che forse avete visto in alcune recensioni con prodotti asiatici non si vedono da noi. Vedete il controllo dello sblocco del viso e questa è una delle parti più importanti. Alcune delle traduzioni sono un po' bizzarre, intelligente e pratico, diciamo che qui gestite la parte di navigazione, potete scegliere l'ordine dei pulsanti e se nascondere la barra di navigazione, potete gestire multitasking a tutto schermo e trovare quelle che sono le applicazioni rapide da utilizzare. Quando voi girate il telefono, lo mettete multitasking e avete alcune applicazioni che potete gestire e aprire in tempo reale. Poi ci sono le gestures e i movimenti, ecco questa è una cosa interessante, perché ci sono due gestures che sono carine. Con un movimento che è doppio, avete visto, io ho mosso due volte il dito sul display e sono tornato all'applicazione precedente, è una specie di loop tra le ultime due applicazioni aperte. Se invece muovo le dita con un movimento che da un lato è a salire e dall'altro a scendere o viceversa, apro invece lo schermo diviso e questo è molto utile per accelerare un po' le applicazioni senza passare da altri menu. Avete la possibilità di fare uno swipe con tre dita per catturare lo schermo, potete sollevare essenzialmente per attivare lo schermo, questo è molto utile per sbloccare il telefono senza bisogno di schiacciare il tasto di accensione e poi potete rispondere alle telefonate semplicemente avvicinando il telefono all'orecchio. Ecco, questo dunque è una serie di dettagli che tra l'altro introducono anche la presenza dell'intelligenza artificiale, intelligenza artificiale che vi supporta anche ad esempio nella carica della batteria. C'è il VOC charging che vuol dire che in circa in un'ora passate dal 12% all'88% in modo piuttosto veloce, l'ultimo pezzo di carica invece viene rallentato perché viene gestito dall'intelligenza artificiale per non danneggiare la batteria. Poi per quanto riguarda le altre funzioni, devo dire che siamo più o meno con cose che noi conosciamo anche da altri prodotti orientali, in particolare la possibilità di clonare le app che potete utilizzare in quel momento per avere due account con lo stesso social network. Allora fotocamera, 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 è veramente così complicato aprire il pop-up? Allora immaginiamo un telefono, guardate, no qui un altro, vi faccio, guardate il movimento che voi fareste per la vostra applicazione, no? Cioè questo è il Galaxy Note, voi schiacciate il bottone di solito e poi fate questo movimento per scattare la foto. Ecco, avete visto come ha funzionato. Se voi pensate a Oppo Find X, la stessa cosa, voi fate questo movimento, nel momento in cui voi prendete il tempo per girare il telefono, il telefono comunque ha la fotocamera già disponibile. E uno dice, sì ma se io devo fare una foto verticale, ah, uomini di poca fede, mannaiala, colonna, allora, prendete sempre il telefono nel momento in cui voi lo piazzate, nella posizione in cui potete scattare la foto, quindi nello spazio che serve per scattare la foto, vedete la fotocamera è disponibile. 20 megapixel o 16 megapixel, ora apriamola intanto, doppio sensore nella parte posteriore con il flash al centro, ecco li vediamo in questa posizione, vedete doppia fotocamera con flash al centro, una da 20, l'altra da 16 megapixel con apertura 2.0. La fotocamera da 16 megapixel ha anche una stabilizzazione ottica, solo quella da 16 megapixel. Video 4K con 30 frame al secondo, Full HD a 240 frame al secondo, potete girare fino a 480 frame al secondo per i video a 720 pixel. Tempo di scatto della fotocamera, devo dire, tac, vedete, immediato, volendo avete anche il vostro teleobiettivo, scatto anche in questo caso, molto veloce, qualità delle foto, buone ma non buonissime. Dettaglio, allora, modalità bellezza, questa sappiamo insomma è una delle cose che piace molto alle popolazioni orientali, i filtri colorati e poi abbiamo Google Lens invece che sappiamo è la funzione di Google per il riconoscimento delle immagini, se la mettiamo ad esempio al lavoro, qua io ho scattato la foto alla mia tazza e mi propone delle tazze alternative da comprare, quindi anche Google Lens per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Avete varie modalità di ripresa del vostro telefono, il timelapse, lo slow motion, avete poi la modalità video normale, la foto, la modalità ritratto e la modalità adesivi. Sottolineo un dettaglio importante, la modalità ritratto è presente anche con la fotocamera anteriore, fotocamera anteriore che non è doppia ma grazie all'utilizzo di un algoritmo, riesce comunque ad estrapolare un selfie con l'effetto bokeh. A proposito, ecco un dettaglio, anche questo è un po' Apple-ish, cioè un po' Apple-oriented, avete la possibilità di scegliere quale modalità ritratto utilizzare per le vostre immagini. La fotocamera anteriore, scusate, 25 megapixel con la possibilità di riprendere video 1080 pixel con 30 frame al secondo, una qualità... ...ni, diciamo che... ...ni, però, insomma, tutto sommato si difende. È il prodotto con la miglior fotocamera del mercato? No, questo sicuramente non è sicuramente da buttare, diciamo che le foto sono nella media, non sono il suo punto di forza. Allora, abbiamo detto che questo è il prodotto più difficile da recensire in assoluto, perché è un prodotto complicato da, diciamo, sintetizzare, bellissimo da vedere. Guardate, io in questo, devo dire che tra l'altro è anche veloce da utilizzare, vorrei farvi sentire anche l'audio per sentire un po' com'è. Vi dico già che non è di grandissima qualità, ma ha un volume molto alto. volume molto alto, devo dire, qualità ni, però, insomma, se vi serve come viva voce per le telefonate o magari per ascoltare un po' di musica quando siete in giro, devo dire che la qualità è più che buona. Velocità ottima, anche quando utilizzate prodotti demanding dal punto di vista grafico, devo dire che si comporta assolutamente molto, molto, molto bene. Vi voglio far vedere, ad esempio, l'avevo già fatto partire 18 volte, ma lo rifacciamo ancora. Insomma, essenzialmente, guardate, è anche un real raising dannata. Guardiamo un po' da vicino per vedere un po' di frame. mi sono scappati via, ma redetti. Avete modo in questo... Il primo videogioco giocato a rovescio senza guardare, però, insomma, vedete che essenzialmente anche la qualità complessiva è più che buona e devo dire che si comporta assolutamente bene. Allora, in sintesi, per chiudere questa che è la recensione più lunga del pianeta, 1000 euro, 999 euro per un prodotto con un display molto grande, 6,42 pollici, AMOLED. Certo, qui ci sono molte mancanze, non c'è il jack per le cuffie, non c'è il trasmettitore NFC, che forse è la mancanza più grave perché non potrete usare Google Play, non c'è il sensore delle impronte digitali, non c'è la certificazione IP67, IP68, non c'è la radio FM. Insomma, sono molte le mancanze di un prodotto che ha concentrato tutto nel suo impatto estetico. Dovete decidere voi se questo valga la pena di acquistarlo oppure no. batteria 3730 mAh con una buona durata. L'ascolto, pur essendo messo la capsula in una posizione quasi impossibile, l'ascolto delle telefonate è comunque buono, la ricezione è di buon livello, il wifi si comporta bene. Insomma, è un prodotto in cui l'estetica è la parte centrale. Siete voi che dovete decidere se questo per voi è sufficiente oppure no. Non dimenticate di visitare il sito MrGadget.tv, date un occhio anche al podcast se avete voglia di farlo e mi raccomando iscrivetevi a questo canale se vi piace. A presto da MrGadget, buona giornata, voglio sapere, vi piace?